Siamo in venti, la seduta è valida, ascoltatori, Presidente. Diamo inizio all'ordine del giorno del Consiglio. Comunicazioni del Presidente non ce ne sono. Comunicazioni del Sindaco neanche. Comunicazioni dei Presidenti di Commissione? Vedo che chieda la parola al Consigliere Bonni. Grazie Presidente. Sì, tre veloci comunicazioni. La prima su un argomento già affrontato in passato negli anni da questa Commissione relativa ai tempi di risposta alle interrogazioni. Purtroppo non c'è il Presidente Ragoni. Però sottolineo che, ad esempio, allegato all'ordine del giorno della Serta, ci sono ancora interrogazioni in evase con data che partono dalla più recente, 26 gennaio 2016, alla più remota 12 dicembre 2012. E questo va contro il TUREL, l'articolo 43, che prevede entro 30 giorni la risposta alle interrogazioni. Secondo punto su un altro argomento affrontato in passato, ovvero relativo al mancato rispetto del decreto legislativo 33 del 2013, l'articolo 14 sulla trasparenza. Praticamente vi è un Consigliere Comunale recidivo che praticamente non ha consegnato la sua decreazione di erediti. Ritengo anche una mancanza di rispetto di tutti gli altri Consigli Comunali, della Giunta e del Sindaco, che hanno adempiuto al loro obbligo dovere. E tra l'altro mi preme anche a sottolineare che comunque crea anche disagio ai dipendenti comunali che con tempestività ci richiedono sempre la documentazione. E tra l'altro mi preme anche a sottolineare l'articolo 47 di questo decreto legislativo che prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non assolve a questo dovere. Terzo punto relativo al fatto che nello scorso Consiglio Comunale l'assessore Andriazzoli aveva una copia del verbale da controllo e garanzia che è stato fatto vedere durante il Consiglio Comunale precedente. Quindi da regolamento questa Commissione è secretata. Su parere del segretario comunale ai verbali hanno accesso soltanto il Consiglio Comunale, il Sindaco, il Presidente del Consiglio. Quindi mi sembra anomala questa situazione dal momento che poi non ho ricevuto alcuna richiesta. In più è stato negato l'accesso al medesimo verbale ad alcuni consiglieri cittadini, tra l'altro consiglieri cittadini che avevano partecipato alla Commissione. e quindi mi preme a sottolineare questa anomalia che si è verificata. Quindi c'è qualcosa che non torna. Poi da parte del nostro gruppo non c'è nessun problema se si volesse desecretare tutti i verbali, però bisogna fare attenzione perché ci sono anche dei verbali che affrontano questioni molto più delicate. Ci tengo a ribadire che quindi ogni qualvolta qualcuno abbia bisogno dei verbali della Commissione è opportuno fare richiesta al Presidente, come nel passato era già successo da parte di altri consiglieri comunali. Grazie. Va bene, allora passiamo al punto relativo alle interrogazioni e interpellanze. Sì, naturalmente in questo spazio è prevista la possibilità da parte dei cittadini di intervenire tramite una procedura che tutti voi conoscete. In questo caso ho una richiesta... Sì, non so se posso... Prego, prego, Sindaco. Ma diciamo sulle interrogazioni ho visto che ci sono circa 20 interrogazioni diciamo in evase in quattro anni rispetto credo a centinaia e centinaia di argomenti diciamo che abbiamo discusso. Questa non è una giustificazione ma solo per dire che cercheremo di dare le risposte anche alle interrogazioni rimaste così in evase. Quindi dal punto di vista formale lei ha perfettamente ragione, dal punto di vista numerico devo dire che insomma mi sembra che abbiamo cercato quando abbiamo potuto di dare risposte direttamente in aula oppure di farle avere scritte. Su queste tra l'altro anche rivedendole non mi sembra che ci siano anche particolari complessità a rispondere quindi insomma sarà un impegno che cercheremo di assolvere. Ma più che altro sull'ultima anche questione dove è stata chiamata in causa un assessore dico il Sindaco che da quello che lei dice avrebbe anche titolo per chiedere documenti a cui lei si riferiva il Sindaco non ha mai chiesto e non è in possesso diciamo di nessuna documentazione. Quindi io mi stupisco che se la cosa rispondesse al vero ma ho appena chiesto all'assessore la quale mi ha confermato che lei non è in possesso di nessun verbale a cui lei alludeva. Quindi io non voglio aprire qui un'inchiesta in diretta però allora a questo punto riapprofonderò anch'io visto che ripeto e visto che il Sindaco non è in possesso di nulla perché non l'ha chiesto e perché ritengo che le cose debbano rimanere anche all'interno all'esame della Commissione credo che anche gli altri assessori diciamo non debbano avere documentazione soprattutto se non richiesta per i canali diciamo così previsti. Grazie. Ho un'altra interrogazione che è stata presentata dal Consigliere Martinelli riguarda i tributi alle scuole paritarie. Grazie Presidente. Volevamo chiedere all'amministrazione comunale in merito alla sentenza della Corte di Cassazione la numero 1425 dell'8 luglio 2015 la quale ha stabilito che a norma della legge vigente le scuole private comprese quelle religiose ancorché parificate alla scuola pubblica sono fino a prova contraria attività svolte con modalità imprenditoriali da venti dunque carattere commerciale e che pertanto sono tenute al pagamento delle imposte comunali sugli immobili di loro proprietà IMU o in precedenza ICI. La sentenza specifica che non sono sufficienti approvare la mancanza di una modalità imprenditoriale è la semplice destinazione dell'edificio ad uso scolastico nel fatto che il risultato economico della gestione non sia positivo ma soltanto il fatto che il servizio sia offerto agli utenti a titolo gratuito o comunque per un corrispettivo slegato al costo dei servizi non idoneo nemmeno tendenzialmente a perseguire il pareggio di gestione e che resta comunque al contribuente l'onera della prova. Scuole private non confessionali tra l'altro organizzato in forma di società già tuttora corrispondono le tasse imposte sugli immobili di loro proprietà utilizzati per l'ottività scolastica. Pertanto il Comune per equità verso tutti i contribuenti non può chiaramente esprimersi da richiedere il pagamento delle imposte a chiunque vi sia tenuto indipendentemente da qualsiasi valutazione sul merito dell'uso a cui sono destinati gli immobili. Pertanto si chiede e credo che o l'assessore ha letto da qualche parte l'interrogazione altrimenti sarà in forma scritta di conoscere il comportamento appunto tenuto dall'amministrazione comunale in conseguenza di questa sentenza di conoscere lo stato dei pagamenti da parte della scuola paritaria del nostro Comune dei tributi comunali appunto indicati nelle considerazioni e chiaramente se vi fossero delle lacune in questi pagamenti di conoscere le motivazioni, le ditte mancanze e di attivarsi per riscuotere il dovuto. Risponde l'assessore Andrazzoli. Dunque, le sentenze sono due quella che ricordava lei e la precedente quindi la 14.226 e la 14.225 tutte e due praticamente sentenze che sono state dichiarate nel mese di luglio in seguito a queste sentenze perché prima comunque c'era una situazione di incertezza si è proceduto a fare un censimento di tutte le scuole paritarie e sono stati inviati già anche gli avvisi di accertamento. Ora, per quanto riguarda il discorso dei pagamenti è chiaro che poi nel momento in cui si vedono recapitare gli avvisi di accertamento ci sono tutti i percorsi, dei ricorsi che chiaramente possono comunque ripresentare o comunque non nel merito ma comunque per le metrature quindi quello che effettivamente rientra nelle attività che sono soggette quindi da soggettare attualmente a Limo è quello che invece dovrebbe essere escluso e quindi ci sono diciamo dei colloqui costanti perché per la rilevazione di questi metri però comunque gli accertamenti sono stati inviati alle scuole che sono state censite dalla pubblica istituzione come paritarie. Passiamo alla mozione successiva riguardante il nero alle cave presentata da Carrara Benecomune Allora io vorrei dire qualcosa anche in merito su questa storia delle mozioni perché è vero che la mozione che è il nostro regolamento si prevede questo però non mi risulta nonostante ci sia stato anche un pronunciamento su questa questione del Presidente del Consiglio non mi risulta che siano mai state fatte richieste per modificare il regolamento perché voglio dire se noi sapevamo che la dovevamo presentare 12 ore prima la presentavamo 12 ore prima non è che poi uno si gestisce la propria attività politica e personale come meglio crede non credo che ci siano mozioni tra quelle presentate che richiedono una particolare preparazione la mia fra l'altro sul nero alle cave mi sembra che venga spontanea chi stamani apre il giornale e legga quello che c'è scritto quindi vado a leggerla e non chiede cose su cui bisogna prepararsi consigliere Buselli cioè bisogna perché io cito 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 no per favore per favore non si può gestire così il Consiglio Comunale voi mi costringete a sospendere la seduta scusa Presidente io cito cito non cito la stampa cito i comunicati ufficiali emessi ieri dalla Procura di Massa quanto è messo per invitare a questa conferenza dal comando della Guardia di Finanza quindi non mi invento niente non mi invento niente allora è notizia di questi giorni che le indagini condotti dalla Procura di Massa Carrara nell'ambito dell'operazione Black Marble noi non ci facciamo mancare niente qua stiano riguardando ben 30 persone per i reati di frode fiscale falso attività abusiva di prestazioni di servizi di pagamento ricettazione e riciclaggio l'indagine di Polizia Giudiziaria svolta dai finanzieri ha portato alla luce un vero e proprio sistema di evasione fiscale utilizzato da imprenditori che operano il distretto del Marmo di Carrara e anche da altre persone ad essi collegate molte delle quali di origine asiatica in due anni gli indagati avrebbero messo di dichiarare beni per complessivi 86,9 milioni di euro l'IRS e Vasa sarebbe 14 milioni e 6 e l'IRBF 5 milioni e 7 la circostanza che la Procura abbia disposto il sequestro preventivo di somme di denaro beni mobile e immobili nella disponibilità degli indagati dalla misura delle norme e giro di affari che sono sfuggiti all'erario e che adesso lo Stato per tramite dell'agenzia dell'entrata ha iniziato a recuperare diversi indagati hanno iniziato a rifondere l'erario versando le somme relativa alle imposte vase e alle sanzioni applicate e i primi versamenti hanno permesso allo Stato di rintroietare 4 milioni e 6 di euro tutto ciò premesso il Consiglio Comunale chiede che il Sindaco e Giunta attivino attraverso gli uffici preposti tutte le procedure previste per la verifica e il recupero di eventuali crediti di rattura tributaria che l'amministrazione si costituisca parte civile nel procedimento penale contro i soggetti indagati al fine di ottenere il giusto risarcimento di tutti i danni che i comportamenti illeciti ad essi contestati hanno arrecato o stanno arrecando ingiustamente la comunità locale ma accorgo che c'è nella mozione due date ma insomma ovviamente è buona la prima la seconda si vede che me l'ha rimasta nel file ma mi sembra che su questa roba sia richiesta una preparazione particolare o si sta da un apparto o si sta dall'altra come ha detto prima il collega Micuni chi si vuole prenotare per intervenire Matteo Martinelli allora io credo che al di là poi delle considerazioni dei numeri esposti nella mozione e nelle richieste che possono essere poi effettivamente dal punto di vista tecnico portato avanti quello che è uscito sulla stampa quello che ha rilevato il procuratore della Repubblica e la guardia di finanza credo che dovrebbe far riflettere ancora una volta questo consiglio comunale e questa amministrazione perché da quanto è emerso si evince chiaramente che ci sia e che ci sia stato un sistema molto ben curato molto preciso volto a evadere le imposte statali e questo dovrebbe far pensare perché se questo sistema ha funzionato o può funzionare con le imposte statali certamente non sfugge all'intelligenza di nessuno che potrebbe funzionare molto bene anche per quanto riguarda i proventi che il Comune ritrae dal lapide visto che anche essi colpiscono il valore o meglio oggi colpiscono il valore di mercato dei materiali ora al di là di quello come dicevo di quello che il Comune può effettivamente fare nel merito di quanto già accaduto quello che sarebbe opportuno cominciare a pensare è quello che può fare da oggi in avanti visto che molto spesso ci troviamo a dover discutere di regolamenti che in qualche modo coinvolgono le imprese estrative e qua dobbiamo fare attenzione perché è citato nella mozione il numero di indagati il fatto che ci sia stata un'operazione di questo rilievo comunque molto esteso non ci può far ritenere che siano tutti della solita della solita pasta e che tutti abbiano posto in essere atteggiamenti simili però come dire gli importi sono veramente elevati se confrontati a quelle che sono le necessità di questo Consiglio Comunale e a quella che è la realtà della nostra città e leggendo anche le pagine di giornale emerge in tutta chiarezza non tanto io non mi soffermerei nemmeno tanto sui reati che sono stati evidenziati perché poi i procedimenti di natura tributaria hanno un doppio binario uno tributario che ha le sue regole uno penale che ne ha altre ma quello che secondo me è importante sottolineare l'egoismo l'egoismo di determinati comportamenti perché se è vero quello che ho letto sulla stampa cioè di milioni di euro portati in qualche simpatica isoletta dove vigono sistemi fiscali molto molto agevolati e allora qualche domandina quando andiamo a chiedere delle fideiussioni quando andiamo a concedere autorizzazioni io credo che noi di questi comportamenti di questo egoismo in questa serie dovremo tenere conto con le dovute discriminanti perché non riguarda tutti ma sicuramente riguarda una buona parte di un mondo imprenditoriale che non da oggi ha dimostrato una scarsissima attenzione verso la realtà di questa città una città che secondo me ha dato molto al mondo imprenditoriale ha dato molto in termini di vite ha dato molto in termini di risorse non da ultima la costruzione della strada dei marmi perché non ci dobbiamo mai dimenticare che se non fosse per i cittadini di Carara che si sono sobbarcati l'onere della costruzione di quell'opera oggi probabilmente i loro signori lavorerebbero a ritmi molto diversi molto diversi giacché non è pensabile avere veder passare per la città 800 camion con le centraline che ci dicevano determinate cose quindi io voterò a favore della mozione della Claudia Bienamè non tanto per il dispositivo che in alcuni punti non mi convince ma proprio perché secondo me l'amministrazione locale non solo l'amministrazione regionale e anche il governo dovrebbe prendere inconsideramente in considerazione quello che accade a Carrara è assolutamente inaccettabile ci sono altri interventi? se non ci sono altri interventi prima di dare la parola al sindaco anch'io per dichiarazione di voto intervengo dicendo che per principio il mio gruppo consigliare il gruppo consigliare che rappresento è un gruppo garantista quindi noi pensiamo sempre che fino a prova contraria tutti gli imputati siano innocenti ma credo che chiedere di verificare se esistano eventuali crediti e nel caso ci siano delle condanne precise pretendere il risarcimento attraverso la costituzione di parte civile sia una cosa più che opportuna doverosa quindi io votarò a favore di questa nazione la parola al sindaco ma il sindaco fa parte di una maggioranza che si è espressa tramite il capigruppo non nel merito delle quattro mozioni ma su una questione di metodo discutibile non discutibile che sta che sta all'interno del regolamento e che è stato detto cento volte almeno diciamo cento una volta ma dove viene ritenuto non solo da stasera ma anche in altri precedenti consigli se andiamo a vedere le date di deposito delle mozioni un uso diciamo eccessivo della presentazione di mozioni a ridosso dei consigli comunali può succedere per un argomento può succedere per due per tre ma ma sto ripetendo pur nelle regole del regolamento questo è stato ritenuto politicamente una volontà di non di mettere in difficoltà nessuno ma di non dare la possibilità di fare dei dibattiti più approfonditi più puntuali di portare più contributi e magari di arrivare anche alle solite condivisioni alle solite votazioni su alcuni argomenti qui no scusate lasciatelo parlare non esiste non esiste allora io se la posizione politica non su questa mozione né su quella che viene dopo né quella che viene dopo ancora rimane quella che i capigruppo di maggioranza hanno espresso il sindaco si allinea alla posizione di votare contro non nel merito della mozione non nel merito non nel merito della mozione ma sulla questione diciamo così di metodo dicendo anche che ritengo che la mozione abbia abbia una condivisione per quanto riguarda che se ci sia stata un'evasione come la procura e la guardia di finanza stamattina hanno detto io per la mia parte ho detto anche di come caltoliamo di come vabbè è uguale di questa cosa ripeto io figuriamoci se abbiamo tentenamenti per andare anche a recuperare i crediti e i tributi che poi in qualche modo ricadono anche sul bilancio comunale tipo l'IRPEF e altre cose di questo genere cosa altrettanto per favore smettetela e lasciatelo parlare cosa altrettanto da discutere sulla questione della di costituirci parte civile in procedimenti che sono penali saranno amministrativi non si sa perché bisogna aspettare l'evolversi diciamo delle accuse e quant'altro quindi non c'è nessun problema anche qui ad andare fino in fondo per affiancare diciamo la procura la giustizia la guardia di finanza in questo senso allora nel dire questo io dico anche qualora e mi pare di capire di sì la posizione politica detta rimanga io ritengo invito ma credo che non ci sia bisogno che su questi argomenti sia la maggioranza a riportare nella prossimo consiglio comunale una propria posizione su questi argomenti o su altri che dovessero venire perché il diniego ripeto non è nel merito di queste questioni che sono condivisibili ma nel metodo che è stato detto e che ho cercato di riassumere per dire che le emozioni a bruciapielo prima del consiglio comunale dovrebbero essere limitate al dirà che uno deve essere preparato non preparato non sono argomenti che vengono dalla luna ne siamo tutti convinti se si vuole un dibattito approfondito bisogna anche il gusto del confronto e anche quello di dire di cosa discutiamo no per favore guardate che sospendo la seduta ma lui è liberissimo di esprimere le sue opinioni e voi siete liberissimi di non condividerle in politica è tutto così uno esprime delle opinioni se ne assume le responsabilità e poi viene giudicato dagli elettori in base alle responsabilità che si ha assunto alle posizioni che ha assunto non serve a nulla stare lì a contestare a urlare è soltanto maleducazione il regolamento di cui tanto si parla prevede che i cittadini possano assistere non partecipare al consiglio comunale sono due cose profondamente differenti una riguarda la trasparenza perché è più che giusto che tutto quello che viene detto qui dentro sia una cosa pubblica ed è più che giusto che ognuno di noi si assuma le responsabilità di quello che dice ma questo non significa che i cittadini possono partecipare al consiglio se non nel modo previsto del regolamento cioè facendo la richiesta con le dovute firme dei consiglieri come hanno fatto quei due signori che prima molto educatamente sono intervenuti lo sapete benissimo che cosa cioè non lo so vi fa piacere che io interrompa il consiglio se vi fa piacere continuate a far casino così io lo interrompo e basta siamo chiusi andiamo tutti a casa ma non viene preso in giro nessuno se uno ritiene di essere preso in giro vota in un altro modo non viene qui a fare casino in consiglio comunale se uno ritiene di essere preso in giro da una forza politica da una persona da un gruppo vota in modo di forme non viene qui a fare confusione non l'ho inventata io questo sistema non l'ho inventato io Claudia viene a me prego esprimo veramente tutta la la mia rabbia anche rabbia perché stamani sul giornale signor sindaco ma non solo sul giornale sulle civette c'era nero alle cave quindi la mia mozione è una di quelle che avete previsto quando avete fatto quel regolamento che poteva essere presentata un'ora prima del consiglio perché è su un fatto che riguarda è un fatto di cronaca allora io veramente rimango sconvolta da vedere che questa maggioranza e questo sindaco ma non avevo dubbio da che parte stesse invece di stare dalla parte dei cittadini sta dalla parte da chi ci distrugge il territorio ci fa un rapido di dei nuovi ricetti infina le nostre sorgenti infina le nostre sorgenti e ha distrutto questo territorio e lascia sui cittadini la fame su questa cosa ci doveva essere una appesa di posizione signor sindaco anche la sua intervista ma avremo modo di entrarci nel merito dopo quando discuteremo del regolamento anche la sua intervista signor sindaco ha lasciato profondamente insoddisfatti i cittadini che l'hanno letta io comunque non la ritiro i cittadini i cittadini ma per favore ora sostendo io no su sta roba io i nomi sasta dei miei sostenitori dei miei elettori non ce l'ho perché io non ho dato niente ai miei elettori io i miei elettori non lo so chi sono non lo so chi sono io sono scolpe i cittadini io non ce l'ho quale leico dei miei elettori come qualcun altro ha consigliere De Pasquale grazie allora mi rivolgo al collega Buselli mi rivolgo al sindaco io rivendico il mio diritto di presentare una mozione entro un'ora precedente Consiglio Comunale perché c'è nel regolamento al di là del formalismo del regolamento su cui si può eccepire ma il regolamento che io come il mio gruppo consigliare abbiamo trovato che ha votato qualche partito che è da da decenni che in questo che in questo Consiglio Comunale l'ultima modifica del regolamento risale alla precedente consigliatura quindi se non si è ritenuto necessario c'era anche lei come come sindaco quindi voglio dire nessuno ha avuto niente da eccepire quindi non si capisce perché oggi all'improvviso si trovi da ridire sulla possibilità di presentarlo un'ora prima se la cosa crea imbarazzo crea problemi avete la maggioranza cambiate non c'è problema si arriva si fa la proposta di delibera si fa in discussione e si modifica quindi non c'è non c'è problema ma se il consigliere ha la possibilità di presentare una mozione un'ora prima del consiglio ha tutta la libertà di poterlo fare e ricordo anche un'altra cosa che sentire queste affermazioni da delle forze politiche che hanno il coraggio di cambiare per esempio di convocare le commissioni all'ultimo momento in orari diciamo definiti di urgenza cioè tra le 24 e le 48 ore quando invece si potrebbero fare con il dovuto orario in modo tale che anche i cittadini potessero partecipare ve lo ricordo senza non andiamo tanto lontano pensiamo all'ultima commissione lavori pubblici non c'è il presidente ma c'è il vicepresidente per la quale è stato cambiato l'orario la mattina stessa si cambia l'orario come quando pare e se questa scusate democrazia allora non vedo perché uno non debba presentare le emozioni un'ora prima del consiglio comunale cioè qui le regole devono valere per tutti non solo per l'opposizione scusate grazie Luciano Tonarelli non è che stiamo entrando nel merito se lei poteva o non poteva presentare questa emozione l'abbiamo detto era suo diritto farlo semplicemente siccome sono state presentate più emozioni quattro emozioni fateci approfondire l'argomento il prossimo consiglio comunale era quello non volevamo impedire a nessuno nessuna azione ci mancherebbe altro ha ragione per quanto riguarda le commissioni ha ragione ci sono delle commissioni che vengono stravolte abbiamo detto come orari bisogna mantenere lo stesso orario lo stesso giorno ma mi sembra che anche l'ultima volta lei ha fatto riferimento ai lavori pubblici ma l'urbanistica fatta alle 8.30 del mattino l'abbiamo fatta perché lei era disponibile a quell'ora lì ecco mettiamo insieme tutte le cose non pensare solo ad una cosa cerchiamo di fare un lavoro comune la volontà mi sembra che sia da parte di tutti non capisco allora nel merito nel merito non ci sono problemi dovevamo entrare nel merito non conoscendo non approfondendo la cosa questo mi sembra che sia assurdo Giuseppe Scattina io volevo dire che naturalmente voterò sì alla mozione non sto a dilungarmi sulla sulla questione che è già stata spiegata dalla consigliera viene a me voglio soltanto evidenziare che questa sera la maggioranza sta utilizzando delle fantasie pretestuose per non dare un giudizio su quello che proponeva la consigliera viene a me cioè che l'amministrazione si costituisca parte civile nel procedimento penale contro i soggetti indagati al fine di ottenere il giusto risarcimento di tutti i danni che comportamenti illeciti ad essi contestati hanno arrecato stanno arrecando ingiustamente la comunità locale voglio ricordare che l'amministrazione comunale sta amministrando dei beni che sono dei cittadini i cittadini sono gli azionisti del comune questi amministratori secondo me non si stanno comportando da buoni amministratori se fossimo amministratori di una società per azioni farebbero sicuramente si costituerebbero sicuramente parte civile consigliere De Pasquale spero per motivi per fatto personale perché altrimenti non avrebbe diritto a reintervento faccio notare al scolare il diavolo e l'acqua santa non è proprio il caso un conto è convocare una commissione in orari particolari con accordi più o meno diciamo di tutti è una cosa diverso è entro le 48 ore o meglio poco prima dell'orario di convocazione della commissione anticipare l'orario il che significa che è sottoscritto è venuto in comune per partecipare alla commissione ha trovato il deserto perché se ne erano già tutti andati chissà perché ecco è un po' diverso Matteo Martinelli posso? ma brevemente che poi il tema si è spostato su atteggiamento fraudolento che avrebbe tenuto l'opposizione minando e mettendo in difficoltà questa povera maggioranza a parte le questioni regolamentari che sono note a tutti e ben conoscete mi freggio anche di ricordarvi che molte volte i documenti vi sono stati portati con largo anticipo ciò nonostante avete chiesto un rinvio così come molte volte le emozioni sono state sfumate proprio per permettere laddove possibile ulteriori approfondimenti io non credo che ci siano delle emozioni che sono state presentate ad oggi tra l'altro credo che ne discuteremo solo queste due e per le altre non c'è sufficientemente tempo insomma non credo che ci siano delle questioni tecniche che ogni consigliere comunale scusate avrebbe dovuto approfondire prima cioè se non avete un'idea sulla riforma costituzionale ad oggi è un problema vostro se non avete idea di quello che succede alle cave oggi è un problema vostro non potete scaricare questa responsabilità sull'opposizione che vi presenta le emozioni un'ora prima su temi così noti su temi così noti mettendo solamente al centro della discussione una battaglia politica oggi non volete discutere nel merito semplicemente perché siete in difficoltà e questo vi dovrebbe far pensare quindi se non ci sono altri interventi io metto in votazione prego c'è un dichiarazione di voto non l'ho fatta prima no 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 prego io comunque ribadisco che la maggioranza ritorni su questi temi autonomamente nel prossimo consiglio comunale per discutere per dire qual è la posizione che può essere coincidente e complessa e in alcuni casi anche più spinta di questo allora metto in votazione il documento chi è favorevole alla mozione presentata dalla consigliera viene me alzi a mano 3 4 5 6 7 7 favorevoli chi è contrario 11 12 12 favorevoli la mozione è 12 contrari 12 contrari la mozione è respinta a questo punto però sono passati l'ora e mezzo del tempo riservato alle interpellanze e mozioni passiamo agli altri punti dell'ordine del giorno del consiglio comunale il punto numero 6 è regolamento per la gestione la riscossione del contributo di estrazione di cui all'articolo 36 della legge numero 35 del 253 2015 approvazione naturalmente le mozioni che sono state presentate stasera non è che vengono scartate verranno ripresentate nel prossimo consiglio comunale che visto che c'è già ci sono già cose sulle quasi si chiede di intervenire spero sia convocato al più presto chi presenta il provvedimento del punto numero 6 grazie chi presenta il provvedimento mi dicono il dirigente Tonnelli grazie 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 ma si tratta di una deliberazione con la quale viene posto all'attenzione dell'approvazione del consiglio un regolamento per la gestione e la riscossione del contributo di estrazione previsto dalla nuova legge regionale in materia di cave e attività estrative questo regolamento va a sostituire un precedente regolamento se non ricordo male del 2005 che è stato fatto sulla base della precedente legge 7898 che come sapete è stata abrograta dalla nuova legge e quindi si è reso necessario far approvare dal consiglio questo nuovo regolamento nel fare riapprovare il regolamento al consiglio si è anche ritenuto opportuno inserire nel regolamento stesso tutta una serie di elementi e indicazioni basate quasi sempre sull'esperienza maturata in questi anni di applicazione del contributo e sono state quindi riportate in maniera direi abbastanza dettagliata rispetto al precedente regolamento queste modalità e criteri per la gestione e la discussione del contributo non so se devo dettagliare nello specifico il regolamento ricordo al consiglio che il regolamento è stato esaminato a più riprese dalla competente commissione marmo e anche dalla competente commissione affari generali istituzionali dove sono state anche recepite alcune osservazioni pervenute da parte dei consiglieri e quindi stasera viene presentata l'approvazione del consiglio chi vuole intervenire consigliere del pasquale prego grazie allora il mio intervento è perché la mia intenzione è proporre degli emendamenti alla presente proposta di delibera allora all'articolo 3 e all'articolo 3 si fa riferimento alla percentuale alla riduzione percentuale della adesione autorizzata nel caso in cui abbiano una certificazione ambientale articolo 3 punto 6 e successivamente al punto 9 invece si fa riferimento alla maggiorazione relativa ai piani attuativi ora nel regolamento si fa riferimento espressamente che e poi all'articolo 4 successivamente si dice che queste riduzioni e maggiorazioni sono di competenza della giunta comunale ora in sede di discussione consigliare il dirigente ci ha proposto a noi consiglieri di formulare una percentuale e quindi ritengo opportuno poi deciderà insomma il consiglio che a questo punto è sovrano ritengo opportuno più che riservare gli importi alla giunta riservarli al consiglio quindi non tanto demandare alla giunta in fondo la legge regionale non dice che la giunta comunale dice che è il comune che approva queste percentuali quindi non vedo perché lasciare questo visto che ultimamente mi pare che ci siamo ritrovati a votare inutilmente cioè cose già deliberate da altri non vedo perché in questo caso non non tenerci la possibilità di stabilire questo importo un altro emendamento è relativo all'articolo 5 comma 4 dove si dice in base a quanto stabilito dall'articolo 27 comma 10 della legge regionale toscana ora se io vado a prendere comma 10 della legge regionale toscana mi rendo conto che la legge non dice non dice non dispone questo cioè non dispone quello che dice il regolamento ma dice altre cose in particolare leggo il comma i comma 10 dell'articolo della legge dice salvo diversa determinazione del comune quindi nel momento in cui il comune in questo caso noi determiniamo qualcosa di diverso non dico nel regolamento in base a quanto stabilito dalla 10 ma semmai mi limito a dire in riferimento al comma 10 articolo 27 comma 10 della legge regionale perché se no se devo dire in base a quanto stabilito dal comma 10 dovrei fare qualcosa di diverso rispetto a quello che inserisco nel regolamento sempre a quest'articolo al punto 5 ritengo opportuno una inversione nel senso che qui si dice ricevuto il corretto pagamento di quanto dovuto dal soggetto delegato siccome questo si presta delle interpretazioni malevole cioè quanto dovuto dal soggetto delegato sarebbe opportuno rigirarle in un'altra forma cioè ricevuto dal soggetto delegato il corretto pagamento di quanto dovuto a scanso di equivoci che qualcuno non lo interpreti male perché quanto dovuto non è dal soggetto delegato ma dal titolare della concessione dell'autorizzazione quindi una situazione ben diversa e formulato in questo modo si presta ad equivoci e il dirigente scuote la testa io sono io faccio il mio mestiere le fa il suo e cosa vuole che le dica poi sempre all'articolo 5 sempre al punto 6 dove si dice nei casi in cui risultino contestualmente insolute da parte del soggetto o dei soggetti delegati numero 2 fatture messe dal comune sarebbe l'idea di inserire anche non consecutive non si sa mai che uno non si ritrovi poi con questo sistema a giocare sulla consecutività delle fatture non pagate un altro inserimento un altro emendamento che farei è all'articolo 6 aggiungerei un comma 4 perché aggiungerei un comma 4 perché non dimentichiamoci che è in uso in questo comune probabilmente anche in altri comuni chiedere le rateizzazioni dei pagamenti ora pagamenti degli oneri del marmo ora mi pare che è vero che anche per i cittadini esistono le rateizzazioni della Tari della Tasi insomma e quant'altro però personalmente ritengo opportuno inserire questo ulteriore punto per più che demandarle al dirigente quindi dal mio punto di vista con controlli molto limitati demandarli alla Giunta cioè quindi inserirei un punto di questo tenore le eventuali rateizzazioni degli importi dovuti saranno autorizzate dalla Giunta sulla base di motivazioni legate alla correttezza della gestione delle cave e dei pagamenti pregressi ecco ritengo che questi emendamenti siano opportuni per una migliore gestione appunto di questo aspetto e anche dal mio punto di vista per evitare contestazioni legate a interpretazioni diciamo non troppo favorevoli alla diciamo alla collettività grazie ci sono interventi Matteo Martinelli sì grazie Presidente purtroppo mi trovo costretto a portare questo emendamento in consiglio comunale giacché nella commissione che era stata convocata non mi è stata data la possibilità di portare avanti e di approfondire la questione che ho provato ahimè a porre l'attenzione ai commissari ma era troppo tardi quindi la commissione evidentemente era stata convocata perché i consigli di maggioranza avevano bisogno di alzare la manina io non vengo per alzare la manina se ho qualcosa da dire la dico in commissione e in consiglio comunale innanzitutto secondo me era opportuno inserire una parte dedicata ai rateizzi come ha sottolineato il consigliere De Pasquale perché appunto il contributo regionale dell'escavazione rappresenta oggi il maggior provento che il comune ritrae dal settore lapideo e sarà anche questa caratteristica aumenterà in futuro visto che l'aliquota basale legge regionale stava aumentata al 10% quindi secondo noi era opportuno valutare in questa sede per velocizzare le procedure di discussione quel tipo di normativa l'emendamento che vado a proporre modifica l'articolo 5 il penultimo capoverso quando si parla di fideiussioni dovute dal delegante al delegato al pagamento del contributo regionale è un meccanismo che credo che in questo consiglio comunale sia abbastanza noto perché è stato più volte debattuto cioè la possibilità che il comune concede ad un titolare di diritti di escavazione ovvero al soggetto che lavora una cava di delegare al pagamento del contributo in oggetto un trasportatore finalmente in questo regolamento si finalmente si introduce un criterio di garanzia rappresentata appunto dalla fideiussione che garantisce immediatamente al comune rispetto alle fatture eventualmente in evase da parte del delegato ovvero da parte del trasportatore nel testo che ci è stato proposto appunto l'articolo 5 l'importo di questa fideiussione sarebbe pari al 50% della montata del contributo di estrazione maturato nell'anno precedente diputabile alla cava ora io ho parlato di questa cosa anche con il dirigente e considerato che poi il diciamo il capoverso successivo praticamente permette al comune di andare a discutere la fideiussione alla seconda fattura in evasa e le fatture mi correga se sbaglio sono mensili praticamente dopo due mesi di fatture non pagate il comune può aggredire la fideiussione ora però faccio questa considerazione perché sicuramente voi sapete che ci possono essere nel corso di un periodo temporale delle differenze tra i volumi prodotti da una cava rispetto all'anno precedente per cui sostanzialmente se si vuole mantenere la percentuale del 50% ritenuta appunto congro edonea a garantire il comune credo che non vada riferita a quella dell'anno precedente ma al contributo anno più elevato di quelli maturati nei 5 anni precedenti ovvero sia in questo modo scusate abbiamo un arco temporale sufficientemente vasto per andare a coprire eventuali picchi di produzione che una cava può avere rispetto nei 5 anni per cui sostanzialmente l'emendamento lo vado a leggere e dice per un importo pari al 50% della montata del contributo anno più elevato tra quelli maturati nei precedenti 5 anni ed imputabili delle cava anziché per un importo pari al 50% della montata del contributo di estrazione maturato nell'anno precedente ed imputabile alla cava io so che le fiduzioni bancarie costano ed è per me anche alla luce di quello che ho detto sulla stampa anche un po' di piacere nel fargli pagare qualche soldo in più in fiduzioni visto che i loro signori non si trattengono nel far pagare sontuose parcelle ad avvocati al comune per i continui e protustosi ricorsi che portano avanti nei confronti di questa amministrazione comunale Claudio ma io non ho proposte di modifica però voglio dare un giudizio su questo regolamento fra l'altro la stessa cosa che ho già detto anche in commissione a me sembra che noi continuiamo ad andare avanti con modifiche integrazioni e quant'altro senza voler affrontare quello che è il problema che è la revisione dell'intero regolamento sugli agri marmiferi comunali questa scelta perché ci è stata presentata il reggente come se fosse un adeguamento alla legge regionale ma non è così noi un regolamento ce l'abbiamo solo che il nostro regolamento fa acqua ha fatto acqua a tutte le parti e ha creato un buco un buco di somme non riscosse per quasi 15 milioni di euro dalle origini dalle guerre puniche come si dice in commissione perché i dati sono dati vecchi ma là questo sistema è andato avanti i dati recenti che ci sono stati forniti o quantomeno che mi sono stati forniti perché li ho richiesti dal settore marmo mettono in evidenza come con questo sistema del delegato che poi è il camionista questo non paga e probabilmente non ha niente alle spalle per costringerlo a pagare allora ci siamo accorti che è un sistema questo io anche in questo consiglio ho detto siccome nel regolamento il signore che è delegato deve avere conseguito il gradimento dell'amministrazione questo è il nostro regolamento vigente come il gradimento dell'amministrazione rimane e permane scritto nel regolamento degli agri barmiferi articolo 10 terro non lo so non mi interessa qual è l'articolo però rimane scritto attualmente per quelli che sono le entrate relative alle concessioni abbiamo ancora anche questa cosa dice ma di lì i soldi entrano che entrino o non entrino il pensare che c'è qualcuno che deve essere gradito all'amministrazione e come fa a continuare a essere gradito quando per anni e anni e anni ha cumulato debiti di milioni di euro l'ho detto qua e lo ridico ma come veniamo minacciati da questi graditi a che livello siamo minacciati allora io credo che questo sia ancora un pasticcio sicuramente qualcuno deve andarsi a creare una protezione perché voglio dire se tu non riesci a riscuotere quello che devi riscuotere e fai un danno erariale alla collettività prima o poi qualcuno ti chiamerà a rendere conto e allora troviamo questo regolamento che sicuramente garantisce di più per carità garantisce di più perché si parla di una fiduzione una fiduzione che nella prima stesura del regolamento che io ho ritrovato la prima stesura era del 100% della somma ora è diventato il 50% che parla di fiduzione bancaria e assicurativa quando so che ormai le fiduzioni assicurative non è che siano proprio così ben viste e forse io l'assicurativo lo toglierei e lascerei solo quella bancaria ma comunque insomma ripeto a me complessivamente questa articolazione mi sembra un pasticciaccio perché e l'avevo detto che sarei intervenuta ora noi comunque comunque sulle cave garantiamo garantiamo un sistema con il fatto perché qui si continua comunque a dire che andiamo a calcolare il valore medio che produce la cave il contraddittorio con chi in cava c'è ma questo sistema l'ha detto bene giubilarlo nella conferenza stampa è quello che ha permesso di fare tutto nella legalità a questi signori che hanno portato i loro blocchi in India perché hanno detto che i blocchi erano difettati quindi hanno permesso questo sistema di non andare veramente a vedere cosa viene giù e dargli il suo giusto valore denunciato dal consigliere Scattina con dati alla mano ha dimostrato agli uffici che ci sono cave che producono un blocco buono ogni non so quanti allora veramente sono cave che dobbiamo tenere aperte se producono un blocco buono noi abbiamo col nostro non sistema di andare veramente a vedere cosa succede lassù permesso a qualcuno di avere di fare di fare quello e sono parole che ha usato giubilaro sono parole che a me hanno colpito non so se voi probabilmente avete una sensibilità diversa e non vi sentite colpiti da queste cose ma io mi sento profondamente colpita e corresponsabile perché poi non si riesce a fare tutto quello che si vorrebbe ha parlato di un sistema scandaloso sfacciato esagerato e spudorato noi abbiamo il dovere di mettere tutti i lacci lazzuoli e controlli perché questo sistema non possa andare avanti invece ci rimettiamo a un regolamento che ancora lascia margini perché comunque parla di fiduzioni assicurative e non solo bancarie perché comunque ne copre solo una parte il 50% e non tutto e comunque consente ancora la delega a qualcun altro la delega cioè il poter delegare qualcuno che per grazia ricevuta c'è scritto che deve avere tutte le cose in regola dal DURC al certificato antimafia perché prima questa cosa non si sa se era verificato o no comunque ancora diamo un grande lavoro agli uffici sono in grado gli uffici di andare a controllare tutte queste cose non era più semplice dire chi deve pagare chi ha l'autorizzazione perché io ho un'arma di ricatto forte se non mi paghi ti tolgo l'autorizzazione e non inventarsi ancora tutto un sistema di deloghe che alla fine io credo che poi fregate rimarremo di nuovo noi come cittadini la collettività per le mancate entrate e quindi ancora una volta andiamo a fare gli interessi io voto contro questo regolamento consigliere conserva grazie presidente io vorrei ecco fare due riflessioni più che altro su due emendamenti che sono stati richiesti dai colleghi De Pasquale e Martinelli non entro nel merito di tutti le citazioni che faceva De Pasquale ecco vado nella sostanza delle cose particolarmente sul rateizzo il rateizzo è una cosa che viene fatta da anni viene fatta sulla base di provvedimenti che l'amministrazione ha prodotto ha adottato logicamente poteva essere anche questo un momento per regolare tutti i rateizzi ma ci sembra un pochino più adeguato poterlo fare nell'ambito degli agri marmiferi è un regolamento che dovrà andare a regolare tutta la materia legata al settore d'appilio e pertanto non solo per il discorso legato alla legge 36 ma anche a quelli che sono i canoni degli agri marmiferi quindi ecco il discorso del rateizzo poteva essere introdotto in questa sede ma ci sembra più giusto e più adeguato introdurlo nel regolamento generale degli agri marmiferi per quanto concerne questa vituperata fideiussione io non ho niente in contrario perché non mi sento assolutamente preoccupato di far risparmiare nessuno io ho solamente bisogno di quando faccio una proposta di regolamento che sia una proposta con un po' di buon senso quando io dico che il 50% del fatturato della cava vuol dire che se l'anno precedente bisogna che lo spiego con dei numeri perché sennò ho paura che non ci si spiega se una cava ha prodotto 120.000 euro di tassazione vuol dire che devono fare una fideiussione da 60.000 siccome si presuppone che mensilmente vanno a fatturare i 10.000 euro vuol dire che dopo due mesi io posso escutere la fideiussione e la montare di 20.000 quindi sono tutelato tre volte tanto ecco ora che tutti qui mi rivolgo un attimo mi dispiace che è andata via la consigliera viene a me perché lo mette come uno scandalo ma mi sembra una norma di buonsenso io sono tutelato tre volte da quello che potrei poi se vogliamo mettere e non ho nulla in contrario di andare a verificare negli ultimi cinque anni qual è il fatturato maggiore e metterlo nulla osta però ecco non veniamo fuori con delle speculazioni il regolamento nessuno dice che è perfetto ce n'è ancora di cose da poter migliorare e infatti tutte le volte che ci ripatteremo sopra verrà fuori qualche elemento specialmente ecco su proposta degli uffici perché poi noi lo possiamo pensare ma poi è l'ufficio che lo deve applicare e le vere eventuali situazioni anomale sono proprio gli uffici a doverle manifestare tant'è che tutto questo elaborato è frutto principalmente dell'esperienza maturata negli uffici e non ultimo è proprio la fila di usione sul piano del delegato vogliamo levarlo al delegato ma cioè il 70-80% delle scaglie viene pagato cash immediatamente proprio in virtù di questa regola se vogliamo andare a rimettere in gioco anche le cose che vanno bene io lo so forse abbiamo un minimo di masochismo perché se una cosa va bene il delegato il 70% viene pagato immediatamente e lo vogliamo andare a mettere in discussione e lo vogliamo andare a ripartire su tutte le autorizzazioni ecco a me sembra un'assurdità poi se l'ufficio appunto deve seguire in maniera precisa ecco le situazioni del delegato che lo diceva la BME non è si sta rifacendo polemica su quello che è stato fatto dieci anni fa oggi un delegato deve avere tutti i requisiti di garanzia per l'amministrazione in più c'è una filedizione in più c'è la capa autorizzata io non lo so ecco non siamo davvero a tutelare qualcuno qui siamo senz'altro a cercare di prendere quello che compete al comune consigliere scattina io voterò contro l'approvazione di questo regolamento perché credo che sia malato proprio nelle basi ci si lamenta perché tanti cittadini si allontanano dalla politica ma se la politica continua a produrre minestre riscaldate come questo regolamento la responsabilità dell'antipolitica montante è di chi governa e amministra facendo sempre le stesse cose o meglio gli stessi errori senza mai avere il coraggio di imboccare strade nuove e di innovazione con questo regolamento si continua a percorrere la strada di sempre che avvilisce e impoverisce la città abbiamo il sindaco che ha già cominciato a vantarsi gli industriali a loro volta minacciano o hanno già fatto ricorsi e li vinceranno come quasi sempre il nero che è già sistematico nel commercio del marmo crescerà anche per quanto riguarda la produzione è realistico e doveroso pensare che chi evade nella vendita cerchi di evadere anche nella produzione alla fine chi avrà perso saremo solo noi cittadini le montagne saranno devastate la ricchezza che producono rimarrà nelle mani di pochi assenteisti dal territorio e l'amministrazione diventerà ancora più paurosa del potere di chi estrae i marmi di quanto non sia stata finora questa amministrazione non ha il coraggio di innovare stavo dicendo prima e si tiene stretta al principio e questo è il punto fondamentale che bisogna cambiare si tiene stretta al principio del cosiddetto valore medio della produzione delle cave il giochino è questo ma il valore medio è a priori un valore al ribasso che sfugge a ogni serio controllo e consente abusi di ogni genere come quelli che oggi sui giornali vengono denunciati di miliardi di evasione fiscale nella commercializzazione scusate non miliardi ma milioni il valore medio è una bufala non esiste è solo un accordo alla grossa tra amministrazione e industriali o meglio non è neanche un accordo di massima ma è il prodotto di un rapporto di forza tra gli industriali sempre vincenti e amministrazione sempre perdente il valore medio sottostima e questo lo ha detto anche il direttore dell'ufficio Marmi due anni fa Donelli che il valore medio era sottostimato e continua ad essere sottostimato il valore medio stavo dicendo sottostima il valore della produzione del marmo il valore commerciale dichiarato del marmo non corrisponde al valore reale di mercato e questo è un danno per le casse del comune ma anche per quelle della regione e dello stato non ha senso parlare di valore medio se prima di tutto non si situisce un osservatorio dei prezzi del marmo se non c'è questo di cosa si discute su cosa si dovrebbe fare questa media una volta stabilito questo osservatorio il solo modo efficace attualmente per accertare il valore reale del marmo scavato e trasportato giù dalle cave è il controllo diretto della produzione camion per camion al momento in cui questi passano dalle pese cioè bisogna controllarne uno per uno se non si istituisce questo controllo con tecnici esperti che valutino caso per caso il valore e la qualità dei blocchi degli informi eccetera il valore reale della produzione sfuggirà all'amministrazione i controlli che in modo indeterminato e difficilmente attuabile il regolamento indica e il sindaco vanta sono solo palliativi armi spuntate e inefficaci giusto per dire che i controlli ci sono perché di fatto non sono stati e non sono efficaci di fatto il controllo del valore dell'escavato si basa essenzialmente su quello che dichiarano i produttori cioè i controlli i controllati controllano se stessi e i controllori accettano e subiscono questa farsa so già l'obiezione che viene fatta a questa proposta quella di mettere dei controllori il suo costo ma basta riflettere anche solo sulle cronache di oggi che denunciano l'evasione fiscale enorme le false fatturazioni e altri crimini per quanto riguarda la vendita del marmo se la produzione fosse stata tutta censita e registrata blocco per blocco camion per camion cassone per cassone non si potrebbe vendere un blocco di prima come se fosse un informe o facendosene pagare una parte in nero il controllo dell'evasione sarebbe facile è per questo che nessuno lo vuole un blocco accertato e censito di prima scelta non potrebbe passare mai per blocco di inferiore qualità ed essere venduto in buona parte al nero penso che controlli reali e non ipotetici come quelli che vuole invece l'amministrazione assicurerebbero un troiti nelle casse comunali regionali e nazionali tali da ripagare ampiamente lo stipendio dei tecnici controllori senza contare i posti di lavoro che in questo modo si creerebbero il sindaco si vanta sulla stampa che la prova che il regolamento va a vantaggio della città e che è buono è dato dal fatto che gli industriali già annunciano ricorsi diciamolo una buona volta si tratta di un gioco delle parti che dura ormai da decenni per non dire da secoli è il gioco del gatto e della volpe che sembrano non accapigliarsi e invece sono pienamente d'accordo già le vanterie del sindaco dimostrano che l'amministrazione ha paura mette le mani avanti per evitare i ricorsi così di fatto si sa già che l'amministrazione non esigerà quanto potrebbe e dovrebbe ma cercherà di fatto una mediazione e anche se la legge lo proibisce perché la legge lo proibisce contratterà di fatto con gli industriali il valore delle cave a ribasso è un gioco delle parti che si ripete automaticamente scontato grazie al quale la città perde sempre perché regolarmente vincono gli industriali e spuntano in anticipo la riduzione di quanto dovrebbero pagare ma la soluzione definitiva di tutti questi problemi credo come altre volte in questo consiglio è già proposto è l'istituzione di un deposito comunale per tutto l'escavato nel quale tutti i blocchi che restano di proprietà dell'escavatore entrino con la loro classificazione tecnica precisa in modo che il loro prezzo sia noto e riscontrabile da tutti da tutti i possibili acquirenti dalla finanza e dai tecnici del comune il problema della sottovalutazione del valore del materiale scavato sparirebbe immediatamente e scomparirebbe la possibilità di vendere con fatturazioni fasulle e la discorsione in nero di parte del prezzo del materiale venduto quest'ultima parte del deposito comune so bene che è una proposta complessa da articolare e studiare bene ma penso che solo in questo modo sia possibile controllare realmente l'escavazione e la commercializzazione del marmo naturalmente di tutto questo nel regolamento non c'è traccia e preoccupazione ancor meno non voglio dire del deposito che è una cosa futura ma dei controlli alle barriere nel regolamento non c'è traccia e preoccupazione perché ripropone sempre la stessa minestra riscaldata che non risolve nessun problema ma lo rimanda all'infinito è anche di questo che voglio rimproverare l'amministrazione è così banale e piatta la sua attività che non solo disgusta i cittadini ma costringe i consiglieri i partiti i sindacati e chiunque senta il dovere civico della partecipazione politica a doversi confrontare eternamente con le stesse proposte e gli stessi discorsi della giunta una giunta piatta appiattisce anche il dibattito politico il confronto delle idee la ricerca di novità di cui invece la città ha estremamente bisogno per uscire dal suo angosciante grigiore grazie applausi se gli interi penso che il dirigente Tonnelli voglia no nel no no che dice sì no tutto è fatto da consigliere dei pazienti di passare pronto quella relativa alla maggiorazione è stata rimessa alla giunta perché è di competenza della giunta fissare le tariffe e la maggiorazione della diminuzione è strettamente legata alla giunta il consiglio ha fissato questo limite solo per questo ci richiama la giunta claudia viene a me voleva intervenire sì perché il collega conserva ha citato il fatto che il delegato paga e quindi perché dobbiamo fare questa cosa ora per far capire anche i cittadini il delegato che paga è Omia Omia certo che paga ma non è ma non c'è solo Omia che trasporta Omia paga a mio parere perché non gli regaliamo l'oro bianco a Omia perché non ho mai visto e non ho visto anche in questa fase della nuova legge regionale nessuna richiesta da parte dell'amministrazione di rendere le scaglie bianche materia prima seconda e quindi avere una tassazione e non residuo cioè noi l'ho detto anche ieri non ho paura a dirlo qua sappiamo della difficoltà che c'è ora a piazzare le terre e i detriti di minor valore tant'è che rimangono a monte però la differenza di pagamento tra chi paga la terra e di trasporto e di tasse paga più di quello che è il valore mercato del bene è una cosa nota a tutti nota a tutti però abbiamo Omia che paga non so se 3,6 o 4,2 perché non mi ricordo ma la tariffa massima è fissata alla regione perché viene considerato scarto quindi Omia paga sì perché gli regaliamo l'oro bianco a Omia mentre gli altri non pagano però gli altri assommano un debito che ti ho detto prima che non è che abbiamo risolto io voglio vedere ora con il bilancio come la mettiamo con i nuovi revisori dei conti perché su quella partita lì sappiamo la segnalazione non l'ha fatta la Claudia Biremela l'ha fatta i revisori dei conti sul fatto che l'entrata del marmo creano incertezze per il nostro bilancio quindi lo so bene che Omia paga ma il fatto che Omia paga non ti dà non ci autorizza estendere un sistema veramente assurdo a tutti e Omia paga e te lo dico perché paga perché gli regaliamo l'oro bianco se non ci sono altri interventi devo mettere in votazione prima gli emendamenti presentati dalla consigliere Pasquale no non voglio entrare direttamente nell'articolato del regolamento perché è stato visto nelle commissioni c'è stato dibattito stasera ci sono state delle proposte le quali soprattutto Conserva ha puntualizzato voglio dire che se come sempre quando si butta per aria l'argomento marmo anche se stasera andavamo a discutere del regolamento per la gestione e la riscossione salta fuori il discorso dei prezzi che vedremo prossimamente tra poche settimane anche ora prima dei nuovi prezzi salta fuori la produzione saltano fuori le cose più fantasiose come sempre come ho sentito e non ultimo salta fuori che si regalano le scaglie vorrei dire che basta guardarci un po' intorno per capire gli approvvigionamenti anche di materiali per tipo quelli usati diciamo dalla multinazionale che è qui da vent'anni da venticinque anni per capire che secondo me non siamo fuori mercato o non si regala niente a nessuno vorrei anche ricordare che quando qualche anno fa c'è stata una crisi proprio quando ancora non c'era la strada dei marmi l'OMIA faceva venire del marmo dalla Turchia credo dei marmo più o meno simile al nostro e credo che abbiano continuato a produrre anche quando i trasporti erano bloccati per le polveri PM10 e quant'altro quindi io ritengo che le tariffe che siano state fatte e concordate con la regione non siano per regalare nulla né all'OMIA né a tutti gli altri né tutte le altre aziende perché non c'è solo l'OMIA che ovviamente assorbe una buona parte delle scadie bianche ma ci sono nel comprensorio a poversigliese e anche vigure diciamo tante altre tante altre società il regolamento degli agri ha una scadenza credo non più prorogabile che quella di ottobre di quest'anno quindi non sarà demandato all'infinito quindi questo consiglio comunale questo consiglio comunale lo dovrà redigere discutere deliberare non deliberare però l'argomento rimane in questa legislatura e in questo consiglio comunale e quindi io ritengo che ottobre non sia tra due secoli è tra qualche mese se ci riusciamo vediamo di arrivarci anche prima prima di ottobre e quindi alcune di queste questioni io credo che possano essere ripuntualizzate come si diceva anche diciamo nel regolamento per il resto le solite accuse del tutto gratuite va benissimo va benissimo le accuse politiche di quello che è nel ragone politico non si deve mai lamentare e però come sempre ancora accuse voglio dire che sono tutt'altro che politiche ma che sono lesive veramente della dignità voglio dire di chi ricopre comunque il ruolo e di chi fino ad oggi anche alle prove di quando è stato chiamato a rispondere da più parti ad oggi non ha nulla da riproverarsi e nulla da nascondere nell'indenità non è compresa anche la continua assunzione di insulti per favore per favore andiamo avanti metto in votazione no basta vergognati ma basta cosa basta di vergogna c'è humiliani humiliani l'intervotazione elementamenti produttore consigliere Pasquale si è favorevole no se vuoi votare 1x1 se vuoi votare se vuoi votare il ruolo si vuoi votare che aspetto alla tua vabbè tutti insieme di sentire 12 di sentire 12, quindi gli emendamenti non sono trovati, l'emendamento presentato dal consigliere Matteo Martirelli. Chi è favorevole? Ecco, l'emendamento che la regoletta si sente di approvare è quello che si va a fare all'emico che è l'ultimo quinquennio, di modificare e di mettere l'anno con il maggior fatto. Va bene? No, è il tuo, è il tuo, se lo voglio rivendere, ma te, sicuramente lo voglio rivendere. Se c'è, se c'è, se c'è, se c'è di certezza su un cuore, non può. Se c'è certezza, va bene? Va bene? Grazie. 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 Quindi questo emendamento è accusato e a questo punto metto in votazione il regolamento con l'emendamento già dichiarato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astene? Quattro.